E' uscito dalla caserma dei carabinieri di Torre Annunziata mandando baci ad amici e parenti, ma la sua latitanza è definitivamente finita. Luigi Cuccaro, 42 anni, ritenuto reggente dell'omonimo clan, è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno sorpreso in casa di parenti nei pressi di via Giovanni Battista Villa mentre festeggiava il suo onomastico. Non è stato facile però per i carabinieri portare a termine l'operazione. Appena si è diffusa la notizia dell'arresto, molte persone infatti del quartiere sono scese in strada cercando di bloccare i militari. Luigi Cuccaro deve rispondere dell'omicidio di Ciro Veneruso avvenuto nel luglio del 1996, ma anche di traffico di droga e associazione camorristica. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto della DDA di Napoli, Filippo Beatrice, si sono avvalse della collaborazione del pentito Massimo Alberto, le cui dichiarazioni hanno ulteriormente irrobustito il quadro indiziario contro Luigi Cuccaro.